ma bentornati amici benvenuti a questo nuovo video io sono daniele il vostro consulente finanziario di fiducia e benvenuti ad un nuovo appuntamento settimanale ormai della rubrica un occhio sui mercati la rubrica che riassume le varie notizie che ci sono state nel corso della settimana per indirizzarci sull'andamento del mercato per capire che cosa sta succedendo per quale motivo il nostro portafoglio si sta comportando in un determinato modo se stiamo scontando alcune delle situazioni che stanno succedendo nel mondo oppure se dobbiamo prenderne atto è una rubrica che ultimamente mi sta piacendo di anche andare a fare una certa elaborazione mentale queste sono alcune ripeto delle notizie che mi permettono di ruotare portafogli dei miei clienti ma ci tengo sempre a precisare che questi non sono assolutamente consigli finanziari perché perché in portafogli vengono fatti sulla base del singolo cliente così come ognuno di noi dovrebbe avere il suo portafoglio settato sulle sue necessità esigenze peculiarità orizzonte temporale grado di rischio propensione alla volatilità oppure propensione più alla bassa volatilità dipendentemente un po da come ci vogliamo andare a muovere quindi prendete questi video lo dico sempre come una bussola per indirizzare per capire se ci sono alcune cose che non abbiamo considerato che dovremmo considerare comunque entriamo subito nel vivo della settimana come è andata questa settimana beh è stata sicuramente estremamente interessante una settimana nella quale mi sento di dire finalmente addirittura il mercato si sta accorgendo sta cominciando a scontare realmente la quella che è la situazione economica quello che sta accadendo nello scenario mondiale lo diciamo sempre giugno metà giugno eh metà agosto sono stati due mesi di mercati che ritornano a schizzare in alto provando a eh sperare che le banche centrali mondiali smettessero di comportarsi come in realtà si sono comportate non lo hanno fatto e i mercati hanno capito che non si può più fare a meno di eh di scontare quelle che saranno le dure manovre della Fed della BCE e di tutte quante le altre banche settoriali e geografiche quindi entriamo sul video della settimana andiamo a guardare le varie quello che è successo le varie le varie notizie che sono accadute nel corso del mercato eh questo è il mio profilo personale dove in anteprima vado a pubblicare le varie notizie appena pubblicate in realtà giusto per eh fare questo video perché ci tenevo a raccontarvi un po' che cosa stia succedendo allora la prima grande notizia andiamo a riprendere una notizia della scorsa settimana di fine scorsa settimana con FedEx che eh crolla in borsa perde il 20% in market in realtà in un giorno eh a causa del dei dati dei profitti perché sono stati rilasciati scritto anche qui sono stati rilasciati i dati dei profitti con un calo delle entrate di 500 milioni di dollari e mentre FedEx Group ha mancato le previsioni delle entrate di 300 milioni quindi delle perde molto importanti i motivi sono stati differenti calo dei voli aumento dei costi dei trasporti chiusura dei vari uffici richiesta inferiore di questo tipo di servizio infatti FedEx l'amministratore ha tenuto a ribadirlo questa mancanza deriva da un da un cambio delle necessità della clientela il mercato non ha preso bene la notizia e infatti è crollata in borsa del meno 20 per cento comunque rimane un grandissimo colosso e anzi direi che per alcune persone questo crollo che poi ha continuato un po' a scendere nel corso delle altre sessioni potrebbe essere un'opportunità oppure viceversa le altre persone dicono no questo è l'avvisaglia che quel tipo di mercato quel tipo di settore per adesso non mi interessa indipendentemente da come decidete impostare la vostra strategia comunque ci teniamo tanto a riprenderla perché credo che sia una delle notizie che meglio riescono a risumere il concetto che voglio dire e che voglio riprendere durante il corso della puntata ovvero che il mercato si sta accorgendo di quello che sta succedendo o almeno questo quello che è quello che sembra non tutto però una parte andiamo avanti l'inflazione in giappone sale al 3 per cento che è un massimo da otto anni lo so mi rendo conto 3 per cento di inflazione non è esattamente l'inflazione alla quale siamo abituati noi quasi circa 10 per cento 9 10 8 per cento ma comunque è un dato storico per il giappone il giappone lo ripeto è uno di quegli stati uno dei pochi stati baluardi del della politica anti aumento dei tassi si sta si stanno muovendo in tal senso però fino ad ora non si sono mossi per aumentare tassi anzi per hanno continuato a immettere della liquidità all'interno del mercato mentre la fed la bce e gli altri stati si stanno cominciando a muovere nella direzione opposta inflazione che comincia a crescere massimo da otto anni è un dato che sicuramente ci serve per valutare meglio quello che sta per succedere in giappone ricordo che dalla sessione precedente mi riferisco al dato dell'inflazione di luglio ci troviamo amo al 2.6 per cento ora andiamo avanti con le notizie la fed finalmente la grande notizia della settimana mercoledì la fed annuncia un aumento di 75 punti base aumento che in realtà era estremamente previsto il mercato lo dava praticamente per scontato anzi molte proiezioni lo davano anche l'aumento della fed a 100 punti base però non è stato rispettato quell'aumento più drastico è stato in linea con il mercato 75 punti base quindi si continuano ad aumentare i tassi di interesse per arrivare a un tasso neutrale ancora maggiore il mercato però crolla e qualcuno potrebbe pensare come è possibile cioè il mercato dava per scontato il fatto che la banca che la fed aumentasse di 75 punti base ma lo stesso crolla assolutamente sì assolutamente sì perché ci sono state poi le parole di powell le parole di powerware e di tutto quanto l'entourage e quali sono state estremamente dure estremamente chiare estremamente inequivocabili mi verrebbe da dire ovvero la fed andrà avanti per la propria strada non ci interessa del fatto che il mercato sta corollando perché la nostra intenzione è quella di bloccare l'inflazione di arrestare l'inflazione un'inflazione che in realtà si sta abbassando l'abbiamo visto anche scorsa settimana si sta abbassando piano piano forse in maniera un po' troppo lenta ma si sta abbassando siamo disponibili e qui riprendo le parole di powell a sopportare un aumento della disoccupazione fino al 5 per cento un valore dal quale ancora siamo lontani quindi continueremo sulla nostra strada ora c'è un appunto da fare a proposito della fed ma credo che lo farò dopo perché mi vorrei prendermi un attimo un paio di minuti per spiegare come si sta muovendo la fed e qual è il problema della banca centrale della fed però ne riparliamo dopo perché vorrei continuare un attimino con le notizie che e poi dopo fare un discorso a fine video quindi rimanete fino rimanete con me fino alla fine della puntata per quanto riguarda invece lo scenario globale non è l'unica la fed che sta aumentando i tassi negli ultimi giorni guarda vado a prendere qualche dato ho ripreso qualche dato che mi interessava andare a studiare guardare con voi l'inghilterra ha anche aumentato di 50 punti base svizzera di 75 norvegia di 50 sud arabia di 75 filippine di 50 sud africa di 75 queste sono solamente alcuni dei vari variamenti che ci sono stati nel mondo ma quello che mi interessa era notare questa a questo allineamento di tutte quante le banche centrali verso il nemico comune ovvero l'inflazione quando abbiamo visto il covid quando c'è stato il covid due anni fa ormai le banche si sono mosse all'unisono iniettando il sistema di liquidità ma perché perché semplicemente il sistema aveva bisogno di liquidità perché l'economia si era bloccata poi abbiamo visto un cambio del regime con l'aumento dell'inflazione e alcune banche chi prima chi dopo stavano aumentando i tassi ma ad esempio la fed ha aumentato i tassi da diversi mesi la bce ha appena cominciato quindi c'era un disallineamento nelle politiche delle banche centrali un disallineamento che si sta assottigliando sempre di più e tutte quante le banche stanno tornando a muoversi quasi all'unisono poi ognuno ha quelle proprie particolarità che 75 che 50 che 25 insomma ognuno ha la propria peculiarità però mi interessava farvi vedere come ci si sta muovendo verso una certa direzione e il mercato deve capire che c'è questa direzione che si manterrà nel corso del tempo che cosa porta questo aumento dei tassi il dollaro che continua a battere i massimi storici su massimi storici alla faccia di quelle persone che continuano a dire no guarda che il dollaro basta non salirà più in realtà continua a salire e l'euro ne soffre di molto l'euro che torna al minimo da 20 anni con un rapporto di 0,96 dollari quindi con un euro puoi acquistare 96 centesimi è un minimo incredibilmente che molto probabilmente nessuno si aspettava adesso poi vi faccio vedere il grafico a inizio anno non ci si aspettava nonostante il dollaro continuasse a salire già da prima dell'inizio dell'anno non ci si aspettava di certo che arrivasse a questo genere di conclusione ma lo diciamo sempre il rapporto del dollaro e dell'euro è quasi scontato è più che quasi scontato mi verrebbe da dire è estremamente in linea con quello che sta succedendo nel mondo con l'aumento di un dollaro che si fa sempre più forte forte dell'aumento dei tassi rispetto a molte valute non tutte le valute ma molte l'euro è una la sterlina è un'altra che si ritrovano ad essere molto più deboli rispetto a prima andiamo a commentare i mercati perché ci tengo a far vedere un paio di grafici e preferisco farvi vedere lo ripeto gli etf rispetto al ai singoli indici non perché i singoli indici non siano meglio anzi guardare gli andamenti dai singoli indici sicuramente soprattutto per me è molto più comodo ma mi rendo conto che questa rubrica nasce per far vedere per spiegare alle persone che non hanno tempo di informarsi giorno per giorno come stanno andando i propri etf non è questo l'etf che consiglio per replicare da sempre 500 questo è uno che però di quelli che vengono maggiormente utilizzati quindi sono andato direttamente a prendere questo perché alla fine quello che interessa all'investitore o soprattutto gli investitori che non molto si informano sono i singoli etf piuttosto che vari indici che si muovono tanto quanto comunque come vediamo l'esempio 500 continua la sua bella discesa dopo aver essere essere andato in alto dal da fine giugno praticamente da fine giugno continua a scendere del sorelli dal sorelli lo diciamo sempre mercato è estremamente ribassista e non ci si poteva attendere null'altro un drawdown medio che rimane costante 3.92 95 per cento ma un drawdown attuale che continua a scendere quindi si è sempre più volatili meno 10 per cento adesso è sempre ripeto sempre rispetto al nasdaq però è molto più stabile e adesso andiamo a vedere anche rendimenti a un mese meno 8 per cento minotto il 62 per cento rendimenti all'inizio settembre meno 3 e 86 per cento il nasdaq ha aumentato la aumentando sta continuando ad aumentare invece la sua la sua discesa in maniera anche molto più vertiginosa ma lo diciamo sempre il nasdaq è fortemente legato lo vediamo qui anche con la volatilità dal settore tecnologico è intrinsecamente legato al settore tecnologico perché la maggior parte delle aziende che lo compongono sono tecnologiche non che la sempre non lo sia ma in maniera sicuramente minore ancor più minore il dow jones quindi abbiamo un nasdaq che forte di un settore tecnologico che è andato molto bene nel 2021 adesso si sta sta soffrendo molto ma è normale se qualcuno sta pensando che il settore tecnologico possa andare bene in queste fasi dovrebbe ricredersi non della volatilità intrinseca di pochi giorni ma in questo regime è molto complesso che il settore tecnologico un settore che strutturalmente è fatto per performare positivamente durante dei cicli economici espansivi e non sicuramente così restringenti non può che soffrire di molto infatti vediamo drawdown medio meno 4,69 per cento drawdown attuale del meno 20,86 per cento vediamo giusto le performance da un mese a questa parte del meno 10 34 per cento year to date quasi meno 20 per cento da settembre meno 4,9 per cento andiamo avanti ci spostiamo in europa che cosa sta succedendo all'europa l'europa che praticamente si è rimandata in anzi ancor più che l'america ma lo sappiamo lo abbiamo già detto si è rimangiata tutti quanto il rally ha avuto a lugno cosa che ancora non è capitata per entrambi gli edf e di conseguenza gli indici statunitensi meno 13 meno 13 per cento dalla rally ma lo sappiamo l'europa in questo momento è molto più propensa ad avere un'economia fragile la bce si è mossa in ritardo la confettione ucraina è imperversa l'inflazione non deriva unicamente dalla domanda ma dal costo dell'energia un drawdown quindi che soffre un drawdown al meno 29 per cento con un drawdown medio del meno 31 per cento quindi molto più importante rispetto a quello alla controparte statunitense ed è il motivo per cui in questo momento l'europa bisogna prenderla sempre con le pinze rispetto magari alla controparte alla controparte statunitense rendimenti che ci sono stati da un mese meno 10 per cento da inizio mese meno 6 33 per cento con un year to date del meno 22 per cento scende tutto assolutamente no andiamo a vedere adesso quello che ci tenevo a farvi vedere un dollaro che continua a impersare continua a salire e riesce ad acquistare e riesce ad acquistare una grandissima volatilità in questo momento continua la sua performance positiva rispetto all'euro con una candela del 3 per cento in una piccola sessione che è il motivo per cui io vi dicevo il dollaro che da prima di inizio anno continua la sua cavalcata verso l'anno cavalcata che non si arresta e di rimando il dollaro che continua a scendere fortemente questo è quello che sta succedendo sul mercato scende tutto assolutamente no ci sono alcuni edf che stanno performando positivamente altri edf che stanno performando negativamente l'infrastrutture che continuano a salire le infrastrutture che sono al più 2 61 per cento consumer staple più 1 e 60 per cento consumer staple lo dicevo più 1 e 54 gold producer 1 e 49 ci sono quindi alcuni settori che stanno andando positivo questa è la situazione economica come dicevo la fed che si sta muovendo una fed che si sta muovendo in ritardo rispetto a quelli che sono i dati economici ma perché la fed si deve muovere sul dato ad esempio come abbiamo detto come ha dichiarato del del mercato del lavoro il mercato del lavoro la disoccupazione che non è ancora scesa ma sta scendendo di molto sta scendendo di molto anzi molto di più rispetto a quello che ci si aspettava ma in ritardo e quindi quel problema che molto probabilmente ci ritroveremo dall'altra parte è che la fed continuerà ad essere molto aggressiva quando in realtà non dovrebbe più esserlo perché i dati sulla quale si basa arrivano in ritardo è una cosa che è già successa ed è una cosa che molto probabilmente continuerà a succedere questo è quello che sta succedendo il mercato come vediamo che continua a scontare le discese della delle banche finalmente si sta accorgendo di quello che sta succedendo mi verrebbe da dire e noi dal canto nostro rimaniamo posizionati io continuo ad essere estremamente difensivo continuo a detenere siamo entrati con alcuni clienti in una parte di liquidità detenuta in dollari proprio ai tempi per sfruttare questo rialzo e per sfruttare la liquidità in questo momento la liquidità è estremamente importante ancora di più quando la volatilità aumenta e rimaniamo in attesa rimaniamo molto conservativi perché adesso con le proprie selezioni che abbiamo adesso difficilmente vedremo di nuovo i massimi storici vi ringrazio veramente tanto per aver guardato questo video io come sempre vi ricordo che questi non sono consigli finanziari non dovrebbe muoversi come preferisce e quali sono le sue strategie e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi